Oroscopo del giorno, giovedì 7 luglio 2022 Ariete Amore, la luna sarà in opposizione, ma saranno le ultime ore, poi tornerà in una posizione decisamente migliore. Potreste essere dunque un po' nervosi, ma nulla che possa complicare in modo irrecuperabile le vostre relazioni. Lavoro, purtroppo la luna non vi aiuterà neanche con il vostro lavoro, sarà il caso di fare attenzione. Toro Amore, sembra non muoversi foglia per quanto riguarda l'amore, i sentimenti di coppia o quelli in via di crescita tra single. Il giovedì infatti sarà abbastanza piatto, almeno per le vostre emozioni. Lavoro, bene per gli impegni professionali, grazie ad una buona posizione di mercurio. Anche Marte sarà in buona posizione. E potreste quindi avere dei benefici sul posto di lavoro. Gemelli Amore, un'ennesima giornata al top per i vostri sentimenti, per l'amore e tutti i tipi di rapporti. Avrete venere in congiunzione e il romanticismo sarà veramente alle stelle. Cercate di godervi ogni singolo momento con chi avete accanto. Lavoro Scordatevi le opportunità sul posto di lavoro, perché mercurio sarà tutt'altro che favorevole per voi. Ci vorrà una certa pazienza in ufficio. Cancro Amore, una nuova giornata tranquilla per voi e per il vostro partner, in cui il dialogo sarà favorito. In generale però non ci saranno ancora delle grandi novità per i sentimenti, e così varrà pure per tutti i cuori soli. Lavoro Proseguirà bene al lavoro, dove soprattutto dalla giornata di domani potrebbero iniziare ad arrivare delle occasioni in più. Leone Amore La luna sarà in buona posizione in questo giovedì di luglio. Voletevi al massimo la giornata con chiamate o con una persona che state conoscendo o che conoscete in queste ore. Le emozioni molto difficilmente mancheranno per oggi. Lavoro Le stelle potrebbero favorire parecchio anche il lato professionale, dove si attendono delle opportunità e novità, niente male. Vergine Amore Il giovedì sarà un giorno tranquillo per voi e per i vostri personali rapporti sentimentali, sia per le coppie che per le nuove conoscenze. Quel qualcosa di più forte sembra ancora farsi attendere un po'. Lavoro Occasioni possibili in questa nuova giornata. Potrebbero infatti arrivare delle novità abbastanza interessanti da poter sfruttare. Bilancia Amore La luna di questo giovedì sarà buona e vi garantirà un ottimo umore da poter sfruttare su tutti i fronti, anche in amore e con i rapporti di nuova conoscenza. Questo potrebbe favorire parecchio tutti i tipi di emozioni personali. Lavoro Vene Mercurio Che potrebbe portare pure delle nuove occasioni, magari dei nuovi accordi, chi lo sa. Sagittario Amore Venere sarà sfavorevole pure per oggi e purtroppo ancora dovrete fronteggiare i problemi nella relazione d'amore, così come anche in un rapporto personale o una conoscenza nuova. Non sarà semplice per nessuno. Lavoro La giornata lavorativa andrà molto bene grazie alla bella posizione di Mercurio pronto a sostenere a pieno tutti i progetti della vostra professione. Capricorno Amore Occhio perché dei blocchi di tipo professionale potrebbero portarvi qualche conseguenza poco piacevole, anche per ciò che concerne l'amore e i rapporti nuovi. Dovrete fare un po' di attenzione in più, sarà importante. Lavoro Sembra ancora che le cose non si stiano concretizzando sul lavoro. Qualche problema potrebbe essere di rilievo. Acquario Amore Luna meravigliosa in questa nuova giornata. Potrete godervi minuto per minuto ogni momento del giovedì, perché sarà piacevole. Per alcuni di voi è anche fortunato, e per questo non possiamo escludere passi importanti nei rapporti. Lavoro Un giorno molto buono pure sul posto di lavoro, per ottenere risultati e soprattutto per avere qualche ottima novità. Pesci Amore La vita privata non va bene in questo periodo, perché il pianeta dell'amore proprio non vuole favorirvi o aiutarvi. Non scoraggiatevi rispetto ad un problema sentimentale o in generale con una persona vicina. Lavoro Occhi ben aperti, perché potrebbero esserci nuove opportunità. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Occhi ben aperti, perché potrebbero esserciare rispetto ad un'amore. Occhi ben aperti, perché potrebbero esserciare rispetto ad un'amore.